Come va, tifosi rossoneri? È arrivato il momento di darvi tutte le ultime informazioni dal dietro le quinte del nostro amato Milan. Prima di iniziare, non dimenticate di mettere i mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per non perdervi nessun aggiornamento dal diavolo. Forza tifosi, mostrate la forza del nostro amore per i Milan. Come sempre, la nostra squadra è alla ricerca della perfezione per ottenere grandi risultati. La notizia di oggi riguarda Rade Krunic, il nostro talentuoso centrocampista. Secondo quanto riportato dall'autorevole Corriere dello Sport, via Milan News, il Fenerbahce starebbe intensificando gli sforzi per avere Krunic tra le proprie fila. La squadra turca è determinata a portare il Bosniaco tra le proprie fila e si sta preparando ad aumentare l'offerta. Negli ultimi tempi non sono riusciti a soddisfare le richieste del Milan, ma le cose stanno per cambiare. Nei prossimi giorni, infatti, si pensa di tornare con un'offerta superiore ai 10 milioni di euro. Questa cifra si avvicina molto alla valutazione che il Milan ha in mente per il giocatore, il che renderà la decisione ancora più urgente. Il Milan riconosce che, in caso di partenza di Krunic, sarà fondamentale cercare un sostituto sul mercato per mantenere la coesione e l'equilibrio del centrocampo. Non sorprende quindi che il club si stia concentrando per garantire che il prezzo del trasferimento sia equo e soddisfi le sue esigenze. Bottino le informazioni che circolano sono che il Milan è disposto a lasciar partire Krunic, a patto che si raggiunga il giusto prezzo. E quanto sarebbe? Beh, sembra che qualcosa intorno ai 12 a 15 milioni di euro sia il prezzo che potrebbe segnare il destino del nostro talentuoso centrocampista. E ora, cari tifosi, siamo arrivati alla parte in cui la vostra opinione conta più che mai. Cosa ne pensate di questo possibile trasferimento? Krunic dovrebbe rimanere con noi o pensate che questa cifra sia giusta per fare spazio ai nuovi acquisti? Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Riempiamo questo spazio con la passione e la voce della nazione rosso-nera. E così concludiamo un'altra edizione esclusiva per voi, ardenti tifosi del Milan. Ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo del Milan. Alla prossima puntata, con altre emozioni e notizie dal nostro amato Milan. Forza Milan sempre! Cerchio rosso, cerchio medio fuoco!